Allora, è Patricia G. Stone. G. Stone come pietra? Sì. Perché questo? È stato un nome artistico, diciamo, G di Goncalves. Io faccio la modella, faccio la hostess, faccio un po' tutto. Canto, danzo, ballo, me la canto, me la suono, faccio tutto. Ma porti anche le moto? Certo, ho la patente anche da moto. Moto, macchina, anche la bicicletta. Anche la bicicletta? Sì. La macchina, pure. Certo. Farne molto bene l'Italiano. Anche l'inglese, anche l'espanolo, il portoghese. Portoghese. Il portoghese, eh, il portoghese. E dove sei? Il Brasile. Il Brasile, io sono di Rio. Rio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E va bene, molto simpatica. Allora... Ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te.